Benvenuti, 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 come dice Claudio, nel podcast di iPhone Italia, sigla. Benvenuti ragazzi, ho cercato di fare il benvenuti stile Claudio, ma so che è stata solo una palida imitazione, c'è Claudio. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. No, ho ancora tanto da imparare da quest'uomo. Benvenuti ragazzi, benvenuti. La cosa bella è che... L'abbiamo già detto benvenuti, sì? Aspetta. Mi presenta quel led che noi abbiamo sul microfono, è diventato viola quando mi hanno detto benvenuti. È perché è partito un clipping che è arrivato dritto dritto dalle mie cuffie al mio timpano. Ma tanto poi in fase di montaggio risolviamo. Ragazzi, un sacco di novità. Vi ringrazio per i feedback che arrivano sempre numerosi, che ci date anche dai social, dai commenti, eccetera, eccetera. Noi andiamo subito alla questione. Se l'altra volta abbiamo parlato un po' di tecnicismi e di processori, questa volta, dato le tantissime notizie dal mondo Apple da approfondire e non solo, oggi andiamo molto sciolti e subito con la notizia di giornata, oggi che registriamo, voi, insomma, saranno passando un po' di giorni, c'è il buon Timothy Donald Cook che sta incontrando sua santità, Papa Francesco, e sua santità Renzi. Claudio. La domanda è, avrà regalato qualcosa a questi personaggi? La domanda è, in quale lingua Tim Cook avrà parlato con Renzi? Vabbè, in italiano, cioè, no, in inglese però... Sì, 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 è presente l'ultima volta che ci ho provato? Sì, sì, ho detto sì, anch'io. Fantastico, io spero che si abbia preso il traduttore. Anche se Tim Cook... Ciao Matteo, ci stai sentendo, perché tanto noi siamo in prima podcast italiano. Matteo sei un grande, Matteo, Matteo. Ciao Matteo. In inglese, Matteo, inglese, Matteo. E Matteo Renzi. Però Giovanni, lo sai che tu adesso hai contribuito, anche grazie al mio ciao Matteo, a inimicare tutto il resto di... Continuiamo con l'inimicazione, allora... No, perché Matteo dice che Matteo ha studiato inglese da Sarri. L'FS non so da chi. Allora, torniamo a noi, torniamo a noi perché Apple sta investendo a Roma, ho letto Sarabagnoli, in un centro di sviluppo europeo per le apps. Ma a Napoli? A Bagnoli, vicino a Napoli, e la cosa mi fa un certo orgoglio e una certa contentezza. Poi ho letto di italiani che sono riusciti a lamentarsi lo stesso, però vabbè, pazienza. Sì, vabbè, ma noi ci siamo, in questo siamo bravissimi. Comunque, a parte questo, non so se hai sentito un po'. In realtà si tratta di una specie di scuola di sviluppatori, nel senso che credo che Apple abbia voglia di formare bene le persone per quanto riguarda la creazione, o meglio, il saper ben gestire il codice Swift, a questo punto. E non solo. Poi non lo so se si tratta solo di questo, però verrà tutto fatto con l'Università Federico II di Napoli. È un'ottima università. Guarda, a me la cosa... Una degli spunti interessanti, perché innanzitutto che parlano di centro europeo, quindi noi ci abbiamo dato un taglio molto italiano, però mi aspetto che vengano anche da fuori. Questo è ancora più positivo da un certo punto di vista. Una delle questioni che nascevano, una delle poi... non mi va di ricamarci sopra perché poi si sa poco, però una delle discussioni interessanti che ho letto in giro riguardava le certificazioni, perché Apple in realtà... ed è una cosa bellissima da una parte e strana da un'altra per una multinazionale di quel tipo, Apple non ha nessun tipo di corso, di certificazioni o presso anche enti terzi, perché questo centro non sarà proprio di Apple, Apple. Si appoggerà un centro terzo. Quindi che stiano cominciando con delle sorte di certificazioni per programmare su iOS? Possibile. Non mi piace molto... sai perché Claudio? Perché certificazione vuol dire soldino, vuol dire andare a pagare solitamente un bel po' di quattrini per imparare a usare qualcosa ed essere certificati. È bello da una parte, d'altra parte va un po' a rompere lo schema di Apple del... voi davanti al vostro Mac, la loro guida di Swift, quelle sono fatte bene, in cui vi spieghiamo tutto, in realtà tu puoi imparare da solo a fare qualunque cosa che poi non è proprio così, perché ci sono alcune funzioncine un po' più complicate che non sono proprio banali, di iOS. Quindi sì, però è anche vero che con la richiesta di programmatori, eccetera, insomma, sai le certificazioni, tu sei dell'ambito informatico, molto più di me, a volte sono anche un po' mal viste. Senti Giovanni, io appunto per questo, siccome mi sto approcciando un po' anche io a Swift, ti dico, nel senso che, sai perché ha poco senso il discorso delle certificazioni, soprattutto in Apple, soprattutto in questo periodo, magari aveva già più senso farlo prima, con altri linguaggi, però lasciamo stare. Il motivo è molto semplice, oggi come oggi, di solito, lo sviluppatore che sviluppa l'app per il mondo iOS, tanto quanto il mondo Mac, che comunque magari sottopone la propria app alle regole di Apple, prima di essere appunto pubblicata sull'App Store di uno dei dispositivi che ho citato, chiaramente, è già, diciamo, in fase di revisione, quindi, che tu abbia o meno la certificazione, è comunque Apple che ti dice, ok, quest'app va bene, no, quest'app non va bene. Vabbè, certo. Secondo me, l'unica cosa che potrebbe portare in senso positivo una situazione del genere, potrebbe essere, anche se non succederà, questa è una mia ipotesi, potrebbe essere il fatto che magari Apple decida di aprirsi un po' di più, accettare tutte le app dagli sviluppatori certificati, però mi sembra, cioè senza revisionarne, anche se mi sembra una cosa impossibile per Apple, però, se cosa Claudio, perché no, diciamo, se fossi io a fare un discorso del genere, direi, quasi quasi, tento un modo per aprirmi un po', facendo queste cose con certificazione e roba varie, però se poi tu pubblichi una schifezza, ti butto fuori, il tuo certificato viene revocato, possibile, non possibile, o sto ipotizzando, non credo che sia possibile, però no. No, nemmeno io, più che altro perché le certificazioni, allora, non cambierà il modo di sviluppare, di pubblicare le app, cioè non è che se sei certificato, cioè, o per devi, no, giusto, o devi per forza spendere dei soldi, le certificazioni, io nel mio campo ce ne sono altre, no, di telecomunicazione, di reti, faccio il nome di Cisco System, tanto perché è uscita la notizia, che investiranno anche loro in Italia, è una bella notizia, Cisco System ragazzi sono praticamente i router, il 70% del traffico mondiale, io parlo di livello di backbone, passa dai loro sistemi, loro hanno delle certificazioni in ambito delle reti, le più famose autorevoli, quelle è un, come si chiama, è un diploma, è un diploma in cui loro, con i loro esami, ti riconoscono che tu sai fare questo, sai fare quello, sai fare quell'altro, perché ci sono poi gli esami, potrebbero nascere delle certificazioni, ma questo serve comunque in ambito aziendale, ovvero, io, azienda, tal dei tali, io con la società di consulenza, che sto facendo l'app per la banca, Conto Arancio, magari a posto, oggi tu metti l'annuncio, cerco sviluppatore Apple, in cui in realtà tu devi dimostrare poi, quando in fase di colloquio, di saper lavorare con, nello sviluppo delle app, no? Così, così è, non ci sono certi, non c'è niente che certifichi, no? Come inglese, le certificazioni di inglese, il Tefl, quelle robe lì, potrebbe nascere una certificazione, in cui io, quando mi presento al datore di lavoro, dico sì, io so sviluppare, comunque ho la certificazione, che ti dà Apple, che, fare le certificazioni in questo modo, vorrebbe dire, anche affrontare degli esami, superati i quali, poi tu prendi la certificazione, e, gli informatici a volte le snobbano, perché dicono, conta sempre quanto tu sai fare, in informatica con un computer, grazie a Dio, tu puoi diventare a casa tua, l'informatico più bravo del mondo, no? Cose che per altri mestieri, in realtà, tu non puoi diventare il più grande sistemista del mondo, perché i server dove li vedi? Cioè, se non ci lavori, no? A me piace, a livello aziendale, perché potrebbe permettere a delle persone, di magari, di investire su se stessi, a me piace molto, quindi, a tutti i ragazzi appassionati, continuate a studiare, se avete, perché, su internet, manualino di Swift, su iBook, e potete veramente imparare un sacco di cose, però, se qualcuno vuole investire su se stesso, prendere una certificazione, e poi, nel mondo del lavoro, dire, sì, io sono certificato, insomma, considerando che sarà, merce piuttosto rara, quando usciranno, perché quanti ne certificheranno all'anno, soprattutto all'inizio, e, ma, certo, magari costerà qualcosa, perché se lo fai fare un ente terzo, costerà sicuramente qualcosa, cosa, però, è un investimento su se stessi, a me, non le ho mai viste negativamente, queste cose, però, senti, sai cos'altro si può dire, rimanendo a questo, e poi concludiamo, secondo me, può essere anche riferito, un po', a quello che si sta dicendo, riguardo alla sicurezza informatica, dei problemi, che possono nascere, dal non controllo, delle autorità, dei nostri dispositivi, magari, un certificato, Apple, una persona certificata, in questo senso, dico, boh, non so, potrebbe, mettere un po' più, contenti, alcuni, che dicono, eh, ma non è sicuro, vabbè, ora sto sdragionando, però magari il certificato, potrebbe essere pure revocato, nel momento in cui, si fa qualcosa, un po' troppo sopra le righe, non so, bello, potrebbe anche per tutti, una sorta di codice, etico, legato alla certificazione, che se fai qualche porcheria, magari te la revocano, perché no, un certificato, sarebbe un certificato, digitale, eh, da Apple, te le puoi aspettare, ste robe? Sì, anche perché, voglio dire, notizia delle scorse ore, non per cambiare argomento, ma per ricollegarci, il fatto che, probabilmente in California, Apple, cioè, a causa della California, probabilmente Apple, dovrà aprire un po' il sistema operativo, alle autorità, quindi, poi queste cose si vedranno, potrebbero anche bloccare le vendite, per un certo periodo, però, c'è di iPhone, non intendo, comunque di dispositivi iOS, perché suppongo che, siano coinvolti anche, gli iPad, tanto quanto gli iPod Touch, certo, eh, quindi, chiaramente, situazioni del genere, in cui le autorità ti chiedono, io dovevo poter accedere, l'azienda dice no, io ti do un'altra garanzia, se succede qualcosa, li mando io a casa, diciamo così, quindi, domanda secca, Claudio, eh, domanda secca, preferisci la privacy tutelata, al 110%, o, saresti d'accordo con una backdoor di stato, perché dobbiamo, o comunque con la possibilità, che Apple mantenga una via, per accedere, al 110%, senti, io, a me hanno insegnato che, se può accedere qualcuno, con delle chiavi, posso accedere anche io, da casa mia, quindi, giusto, no, è vero, è vero, è vero, ma anch'io, anch'io la vedo, anch'io, sono d'accordo, col tema della privacy, perché quando, quando molli di un centino, insomma, Edward Snowder avrà insegnato qualcosa, a questo mondo, quando c'è, quando c'è, quando c'è di qualcosa, comincia a cedere tutto, insomma, su queste cose, è vero, uno dice, ma se c'è il terrorista, magari io, come facevano prima, ragazzi, poi, perché era fino a, S8, Apple, si aveva sempre dichiarato, Apple ce l'aveva, poi dava i numeri, erano pochi casi al mondo, però, ma lì non lo poteva fare nemmeno la polizia, dove essere un giudice, a spedire, non lo potevi fare nemmeno da remoto, i telefoni andavano spediti a cupertino, e loro potevano farlo, certo, un livello di sicurezza in più, perché se permetti alla polizia di farlo tramite un software, una volta lo fa la polizia, come dice Claudio, lo facciamo anche noi, cioè, lì proprio cade tutto, se ti affidi ad Apple, è un livello di sicurezza in più, però, come diceva Claudio, una volta che ci può entrare Apple, potenzialmente ci può entrare chiunque, poi bisognerebbe fidarsi di Apple, è un po' come uno dice, sì, io affido tutti i miei dati a Google, e mi affido di Google, però aspetta, ecco, secondo me, voglio dire, anche se non si dice, può essere pure che da remoto, qualcosina la possa fare, anche perché noi, molta roba ce l'abbiamo su iCloud, quindi, io dubito fortemente che, Claudio, se fosse necessario, non potrebbero farlo, io non credo, ma sai perché? Perché l'hanno pubblicizzata così tanto, che tutti i dati sono cifra, allora ragazzi, voi non fidatevi mai di nessuno, in generale, nella vostra vita, è proprio partita da questo punto molto, soprattutto di me Giovanni, eh no no, sì sì, proprio i primi, quindi come dice Papa Francesco, non vi fidate di nessuno, però, no, dice proprio così, no, cioè questo non ci sono sa, perché io dico, io cerco di essere sempre poi il, un po', fare la, perché io dico che Apple di questo mi fido, perché l'hanno pubblicizzato talmente a morire, un po' contro Google, un po' perché ci credono, il perché lo lascio decidere a voi, se sono dei parabip, eccetera, perché lo faccio decidere a voi, però che se domani, come dice Claudio, se tu un accesso da remoto, comunque c'è il jailbreak, c'è gente che iOS, se lo gira come un calzino, se domani esce fuori, che uno lo ha fatto con un video, e quelli avrebbero un danno di immagini, veramente fortissimo, ma già pensate quando successe quella roba lì, delle star che avevano perso le foto, io mi ricordo la gente che ci scriveva, ma non è sì, ma non è che me le rubano, che poi che cos'era, era un attacco a forza brutta, di questi qua, che comunque avevano fatto, demesso delle password, che avevano sgamato, quindi, cioè, alla base, infatti quando si parla di password, tema one password, allora c'è tanta gente che non si fida di one password, per dire, ma voglio dire, non ha senso non fidarsi di one password, visti i sistemi di cifratura, che vengono utilizzati lì, certo è, che se dovete mettere, come chiave di registro, 1, 2, 3, 4, 5, vabbè, ciao, va bene, ok, quello fu il caso, ma la siete voi che avete sbagliato, è certo, e lì fu il caso di iCloud, è vero, Apple lì, permetteva un attacco a forza brutta, cos'è l'attacco a forza brutta, ragazzi, software che provano mille password, tutte insieme, ma quando fanno questi attacchi, loro, cioè, dato che tutte le password del mondo, non le puoi provare, anche perché non ci stai dentro, loro provano quelle più comuni, se voi avete messo, ciao ciao, pippo, password, 1, 2, 3, 4, qrt, e che vi sgamano, eh, ma quel pericolo potenziale, ce l'avete su Facebook, ce l'avete dovunque, quindi, cioè, il problema lì è, monte la vostra password, quindi, password, difficili, e se avete un ID Apple, e io l'ho fatto, fidatemi, andate login, sul sito Apple, e fate la verifica in due passaggi, perché ragazzi, ma fatelo di tutto, quello che potete, sì, quando, quando ve lo permettono, fate la verifica in due passaggi, io l'ho fatto pure di Dropbox, ultimamente, bello, 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 però, lo dico per Apple, vi danno una specie di chiave master, quando lo fate, salvatela, stampatela, mettetela in qualche cassetto, in qualche posto sicuro, perché senza quella chiave, che abbiamo solo noi, nemmeno Apple, poi può sbloccarvi l'account, quindi, occhio, sapete quante persone, ogni giorno, io l'ho visto con i miei occhi, nei centri sensatorizzati, negli Apple Store, ovunque, vanno con un telefono, un iPhone e dicono, cavolo, non riesco più ad attivarlo, perché non mi ricordo più, la password dell'Apple ID, e poi chiaramente, devi chiamare Apple, ed Apple se vuole, ti aiuta, se no, no, da me, da quello che hanno detto, perché ci hanno scritto milioni di messaggi, su quel, da quello che mi hanno detto vari ragazzi, Apple ha detto, non possiamo fare nulla, poi non lo so, bisogna avere una prova d'acquisto del terminale, anche perché tutto ciò, è legato al fatto, della sicurezza, per quanto riguarda, la perdita e i furti, chiaramente, non è che tu mi rubi l'iPhone, e allora, te ne puoi, esatto, te la risolvi facile, chiamando Apple, no, non funziona così, anche perché, se lo rubi a me, io chiamo Apple, e dico, avviso, oltre a bloccare tramite, find my iPhone, e tra l'altro, ti blocco l'i-mail, quindi poi, a brodino vegetale, si fa, come si dice, dalle mie parti, un iPhone, un iPhone che poi magari, non è nemmeno un iPhone vecchio, 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 jailbreakabile, con il quale, si può fare di tutto e di più, tra cui anche fare cose illegali, come cambiare l'e-mail, quindi, rubare l'iPhone oggi, non ha senso, quindi è meglio, anche se, parentesi Claudio, poi c'è gente che va senza codice, però, ho letto, ho letto gente, che è riuscito a sbloccarlo, dipende, no, però, però lo dico perché, magari a qualcuno è successo, però, il 90% delle cose che vedete in rete, sono truffe, quindi non buttate i vostri soldi, mi hanno scritto di gente, che poi c'è riuscito, ma, non ho nemmeno chiesto, perché non lo voglio nemmeno sapere, non credo sia legale, per me finisce lì, però, probabilmente, forse, iOS 7 era bypassabile, questo lo so per certo, poi avevo letto che Apple aveva rivisto un po' l'algoritmo, non lo so, non lo so, non lo so, voglio chiudere il fatto dell'Italia, veramente con una parentesi, 30 secondi, perché ho letto molti, e adesso incontra Renzi, perché Apple non fa, qualcuno ci ha scritto, perché non parlare del fatto dell'Europa delle tasse, perché ragazzi, già è stato difficile parlare di processori, mo' figuratevi se possiamo parlare di normative europee, una cosetta, e non lo vogliamo fare, no, non è il caso, però, però, una roba ve la voglio dire, non voglio difendere Apple, perché, però, solo due concetti ve li do, perché so che ci ascoltate, voi siete molto giovani, magari, Apple non ha fatto evasione fiscale, ha fatto illusione, che per alcuni è solo un modo furbo, per chiamarlo, per altri non lo è, due, perché avviene questo, quando leggete, il tutto non deriva da una legge italiana, quindi mo' che vai a trovare Renzi, ciao, Apple si è accordata col fisco, per non andare in causa, e allora si sono messi d'accordo, per pagare una parte, perché la causa, poi non si sa come finisce, tutto nasce, apro e chiudo, dal fatto che in Europa possono, come sapete, liberamente circolare le merce, non c'è più la dogana, Apple che fa, ma questo lo fa Amazon, lo fanno tutti, hanno la sede in Irlanda, dove pagano l'1-2% di tasse sugli utili, quindi Apple Irlanda, ha il vostro iPhone e il vostro Mac, le sedi Italia, Francia, Germania, che sono, sono come dei reseller, funzionano come un qualsiasi media world, come un qualsiasi X, qualunque reseller, qualunque sito, praticamente Apple Italia, che fa, compra da Apple Irlanda, il Mac, ci carica, la classica percentuale da reseller, quella è poco percento, e la vende, quindi Apple Italia non fa l'utile sul vostro Mac, perché ci ha guadagnato quel paio di punti percentuali, che tra l'altro le serve per campare, per mantenere l'infrastruttura, in pratica non fa utili, tutto l'utile chi lo fa? Apple Irlanda che ha venduto il Mac, ma Apple paga le tasse, perché le paga in Irlanda, perché l'Irlanda permette alle aziende di pagare queste tasse l'1-2%, mo dite, se voi aveste un'azienda e poteste pagare l'1-2% al posto del 50% che vi fa pagare l'Italia, dove le paghereste? Siccome le merci possono arrivare, questo è il meccanismo, non ve lo spiega mai nessuno, ma non è un meccanismo perverso, è semplicissimo, come ve lo spiego io a voi? Il problema è che le tasse sono diverse in tutti gli stati, quindi loro hanno voluto fare l'unione economica, ma noi siamo profondamente, noi siamo unione di sto paio di... Infatti, perché non è normale che in un posto come l'Europa, o comunque in generale in qualsiasi regione del mondo, si debba decidere di avere la sede centrale di un'azienda in un posto o in un altro, perché c'è competizione a livello proprio di tasse, quindi è chiaro, quindi è chiaro che un'azienda X, Y o Z cerca di andare dove costa meno, ma non perché sono cattivi e vogliono toglierci i soldi, ma perché sono le istituzioni che permettono di fare una cosa del genere, e questo è il problema, secondo me, più che altro. Esatto, per cui da qui l'illusione, non è un'evasione, loro hanno eluso il pagamento delle tasse, che l'Italia dice, che spetterebbero a lei, la questione è dibattuta in Europa, ma poi tra l'altro, cioè questo è un buco proprio normativo di Schengen, proprio della libera, cioè proprio uno dei fondamenti dell'Unione Europea, quindi pensate quanto è complessa, ma figuratevi, quelli hanno deciso, pane e patta, di non andare in causa di tribunali, poi con lo Stato, ciao, che hanno dato sta sommetta, milioni di euro, e si è chiusa qua, quindi però non è, è meno oscuro di quello che sembra, no? Perché sembra poi quando ve le fanno passare, è così. Ma perché lo fanno tutti, no? cioè non perché, non è che sicuro lo fanno tutti, allora ok, però, tutte le multinazionali, le multinazionali dei software, dei farmaci, di qualsiasi cosa, di chi vende online, i profumi, di chi vende online, il vostro, il vostro, il vostro brano, è chiaro che il negozietto, prima, prima arrivava con la, con la fattura di a Lussemburgo, dall'iTunes Store, perché dove sta scritto che te lo devo fatturare in Italia, o io ti sto vendendo una canzone, cioè vedete poi, eeeh, che gli evo di, noi poi fondamentalmente, le tasse già su Mac, noi diamo il 20% su qualunque cosa che compriamo, la famosa IVA, però la paghiamo noi, non Apple, perché l'IVA la paga il cittadino, io mi chiedo, questi qua non producono in Italia, non progettano in Italia, stiamo pagando noi il 20% del valore, potrebbe anche essere sufficiente, poi è anche vero, che però loro con questo artificio, poi le pagano in Irlanda, e perché poi tutti i soldi, degli utili, devono essere pagati in Irlanda, perché loro sono furbi, eh però vedete quanto è, è un cane che si morde la colla, però aspetta Giovanni, poi lì va una partita di giro, quindi anche lì è tutto un casino, perché, alla fine bisogna vedere quanto va allo stato, ah no, vabbè, quella è un'altra questione, però sì esatto, e poi è così, quindi è questa qua la questione, vediamo, vediamo come verrà risolta a livello europeo, anche perché se hanno fatto la multa a Apple, poi faranno a Google, poi la faranno ad Amazon, ma come è successo già da 5 anni a questa parte, ma in realtà dovrebbero andare da tutti, ogni 2x3 accade, purtroppo, allora per una questione geografica, perché non vanno da tutti ragazzi, perché devi andarci uno a uno, e come fai? ma io vi dico una cosa, per una questione geografica, il fatto che l'Irlanda sia una sede centrale, di una multinazionale X, che viene dagli Stati Uniti, diciamo che non c'è nulla di male, anche perché oggettivamente è comodo, un volo Dublino a New York, è di sicuro più breve, vedi un volo a Roma-New York, ora non sono proprio sicurissimo, però di sicuro sarà più corto, bisogna vedere di quanto, probabilmente di poche ore, cioè di una mezz'oretta, tre quarti d'ora, però comunque di sicuro è più breve, quindi questa è una cosa da tenere in conto, e poi, è chiaro che tutto il resto, è tutto il resto, è dibattuto, è dibattuto, perché loro fanno degli utili, sul suolo italiano, per esempio, anche lì pensate poi, non è facile, pensate anche il Mac che vi viene spedito, è vero, alcuni negli store, tu dici, vabbè, io negozio, vendo in Italia, forse ci sta come concetto che è, è giusto pure che ti paghi la tassa, su quell'utile lì, ma su quelli, a me il mio Mac è arrivato spedito dalla Cina, cioè l'Italia, che grande infrastruttura ha permesso, cioè, perché poi, le tasse sono servizi, no? noi paghiamo le tasse, in cambio riceviamo servizi, e sì, il corriere che ha attraversato le strade, ma già il corriere pagherà le tasse, sugli suoi utili, quindi, io adesso non voglio fare, astro, astrofisiche fiscali, però, poi ecco, sì, anche io, se producessi in altra parte del mondo, te lo spedisco, il mio è spedito dalla Cina, a me l'Italia, che gran servizio ha fatto, già ci ha pagato l'IVA, e ho detto questo, le tasse vanno pagate, le paghiamo tutti, quindi, figuratevi se, più o meno le paghiamo tutti, sì, sì, no, quindi figuratevi, però poi non facciamo l'evasione del canone Rai, perché poi, non ci lamentiamo quando viene messo in bolletta, esatta, esatta, un'altra questione, non perché uno ha la presunzione del fatto che in casa abbia togno la televisione, però, esatto, 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 io, quindi, non voglio difendere Apple, era il mio intento, spiegare un attimo, io ho semplificato un po', ragazzi, perché è più complessa, però, di base è quello lì, e poi vediamo, insomma, però, vedete, cioè, è facile dire, sì, loro probabilmente hanno fatto una furberia, tra l'altro il direttore finanziario di Apple, CFO, è Luca Maestri, ed è italiano, mo, cane Maestri, uno che si chiama Maestri, che fa la finanza, che è italiano, ma te la poteva pagare, sì, esatto, è proprio nel, e poi, tra l'altro, uscì la notizia che, il dirigente Apple più pagato, grazie alle stock option, è stato il più pagato, anche più di Tim Cook, e ragazzi, questo qua ha fatto ste magie, però, vedete, non è, è un meccanismo talmente banale, che lo fanno tu, cioè, lo fanno un sacco di multinazionali, eh, perché è banale, è insito, in questo buco normativo dell'Unione Europea, molto dibattuto, chiudiamola qua, perché, però, anche oggi abbiamo fatto la nostra, mi piace anche informare, perché sennò la gente poi legge, legge, ma poi non sa mai cosa c'è realmente dietro, quindi scusate se ogni volta facciamo un po', approfondiamo qualche tema, però, non ne parla mai nessuno, se no puoi parliare, Giovanni, il fatto è che, te la posso fare una frecciatina Claudio, ma non è a te, a me, vabbè, no, no, non è a te, non è a te, vediamo, no, se no parliamo di tecnologia, vediamo i video su YouTube, di gente che commenta le funzioni di iPhone 6, e non sa nemmeno le funzioni di iPhone 6, ma non dirò, cioè, non mi interessa, però per dire, che poi andiamo lì a parlare di tecnologia, ma poi guardiamo i video su YouTube, che mostrano quanto è fluida l'app, quanto è fluido lo swipe, stiamo nel 2016, e, e avanti così, insomma, un approfondimento ogni tanto, per chi si occupa di informazione, questo lo dico a 360 gradi, facendo anche autocritica, anche quando noi clicchiamo, in questo, è sacro, no, perché leggiamo sempre, mi sono stancato, scusate, mi sono stancato di leggere sempre le quattro, non si va mai, c'è sempre un perché nelle cose, molto difficilissimo da trovare, però non, si scrive la notizietta lì, l'iPhone è fluido, il Mate S c'ha il press e touch, quell'altro non c'è là, è finito lì, e, andiamo un po', non è proprio così, cioè non deve essere così, non deve essere, non deve essere così, cioè è così, ma non deve essere così, sono orgoglioso, insieme a Claudio, di poter approfondire, quando riusciamo, nei nostri limiti, nella nostra ignoranza, per alcuni temi, perché poi, insomma, siamo io e Claudio, insomma, ragazzi, però, che cosa vorresti dire? No, cioè, nel senso, sto scherzando, sto scherzando, però, mi capizza i fichi nemmeno, no, vabbè, non buttiamoci troppo giù, senti, io direi, per ricollegarci, a questi temi, da che parte, la vogliamo prendere, adesso? Sono simpatico, raga, da che parte, la vogliamo prendere? Che domanda, poi dicono, che faccio i doppi senza, ragazzi, ragazzi, cioè, vedete che non lo faccio a posta, vedi, tu sei il maligno, non sono io, ma sei tu, cioè, dici che dico io, ma sono tu, la prendiamo, è una brutta persona, Francesco Siciliani stava con l'influenza, uno su Twitter mi ha scritto, ma sempre con l'influenza, sta Francesco Siciliani, parlo anch'io nel podcast, scriviamo, non risponde, capito Francesco, tu devi scriverci, ho detto, ma che ti devo dire, regaliamogli delle tachipirine, in su posta, così, giusto per rispondere, alla domanda di Claudio, da quale parte la prendiamo, è il buon Francesco, però, che salutiamo, San Francesco Siciliani, e che nella sua vita dissoluta d'artista, perciò prende l'influenza, ha, c'è anche, recensito la, Memo Music Up, Claudio, finalmente Apple, torna a fare quelle chicchie, che la contraddistinguono, mi è piaciuta la modalità, night and day, è una fesseria, è una fesseria, non è che poi chissà che, però, è veramente, molto di nicchia, perché serve giusto a chi fa musica, molto semplice, sì, bella, però, non l'ho nemmeno scaricata, nemmeno io, perché se ne prego, esatto, no, c'è sti gran cavoli, però, a Francesco serve dai, a Francesco serve, anzi, però, sono rimasto un po' deluso, perché? perché io volevo una bella prova, con Francesco, che suonava, che ci cantava qualcosa, e ce la mostrava, e ce la mostrava con un video, possiamo fare l'appello a Francesco Siciliani, dal podcast, che ci faccia un bel video, della Memo Music Up, ok, dai, mentre si rimpella qualcosa, dedicato al podcast, va bene, una bella, una bella canzone sulla supposta, Francesco, Francesco, ti lancia il tema, ti lancia il tema, se vuoi ti aiuto a scriverla, va bene, dai, ci siamo, siamo d'accordo, siamo d'accordo, ragazzi, c'è Chiecco Zalone, che sta sfondando al cinema, ha sfondato il cinema, praticamente, sfondiamo anche, è solo lui, sfondiamo anche noi i podcast, e, detto questo, tornando ad Apple, tornando ad Apple, oggi siamo carichi, ragazzi, tornando ad Apple, non so, se Claudio, sa, no vabbè, vi do sta notizietta, che ho letto su iPhone Italia, che Google, che Google, ha sganciato un miliardino di dollari, ragazzi, miliardo di dollari, mille miliardi, dalle vecchie lire, però nel 2014, diciamo, però nel 2014, quindi, ma figurati nel 2015, per essere il motore di ricerca predefinito, su iPhone e iPad, quindi pensate, no, che giro di moneta, e che giro di advertising, riesce a fare Google, e quanto alla piattaforma iPhone, questo me lo diceva prima, Claudio, a microfoni spenti, quanto sia profittevole, quanto, io, a me è capitato anche di recensire qualche prodotto, ragazzi, cioè, a volte, leggo delle recensioni, magari fatte per i dispositivi Android, adesso non voglio fare discorsi stupidi, no, capite quello che voglio dire, magari in cui qualche accessorio è definito passabile, magari per iPhone, uno dice, bruttino, insomma, non è che vuole fare lo snob, è che ragazzi, ma questa cosa uno la impara proprio da sé, chi compra un iPhone, ma giustamente, dopo che spendi 6, 7, 100, 800 euro di telefono, anche l'accessorio, la gente che compra l'iPhone, di solito, non va a comprare lo scartino, la cover da un euro, se spendi 100 euro di smartphone, spendi un euro di cover, ma ci sta, è giusto, anche lì nelle app, c'è più propensione di spesa, non lo so, adesso non voglio dire, probabilmente perché poi uno che ha la gioia, io questo lo trovo coerente, che ha la gioia di spendere 6, 700 euro per uno smartphone, ha la gioia di comprare il buon accessorio, la buona app, non è altrettanto di cover, in un anno, eh, poi c'è gente che spende, spendi in cover, vabbè, no vabbè, dai io ho smesso, ho smesso, allora devo dire, ho smesso da quando sono qui, diciamo nel senso, da quando sono con voi, cioè con iPhone Italia, prima di tutto, perché a volte, capisco anche, mi è venuto spontaneo, il fatto di sviluppare, un senso critico migliore, nei confronti di prodotti, che magari possono essere meno utili, e qui secondo me, se Andrea ci sente, si starà facendo una grassissima risata, minimo, perché sa benissimo, che comunque compro il mondo, però, ecco, non, evito di comprare cose, che so che fanno schifo, ecco. Ciao a tutti, sono Claudio Sardaro, è un problema, da diversi anni, ho un problema di cover, con le iPhone, no vabbè, magari fossero solo le cover, comunque ragazzi, io invece le cover dell'iPhone, non le ho mai comprate, nemmeno i vetrini temprati, tutta quella roba lì, inutile, ho sempre usato le pochette, come Andrea Cervone, oh madonna, le pochette, quindi, io e Andrea Cervone, siamo del pochette team, però, scusami, moglie, abbiamo detto che Francesco, cioè, della supposta di, di Cervone, fammi dire anche ad Andrea Cervone, che, in ambito di pochette, per me c'è solo una marca, tutto il resto, tutto il resto è noia, quindi ragazzi, se volete delle pochette, veramente fighe, veramente belle, veramente slim, veramente che entrano nel vostro telefono, in maniera perfetta, Sina, scritto Sena, Case, sono prodotti americani, in pelle, cercatevi le ultra slim, senti, aspetta, ora ti fermo subito, e le poetic, ci sono le poetic, le pochette, lo fa, non lo so, io una volta che ho provato la Sina Cases, cioè, costano cari, Giovanni, tutto quello che vuoi, ma ci sono tante pochette, cioè io, se avessi, la maniera delle pochette, me ne compreri 200 milioni, sicuro, Claudio, io ho ancora quella dell'iPhone, ho ancora quella in pelle dell'iPhone 4, c'è roba che, in confronto, gli accessori di Apple, sono di una, di una qualità infima, bella, morbida, però resistentissima, ancora, non so, l'avrò buttata da qualche parte, fantastiche, andatele a vedere, sono, se volete, se vi serve una bella pochette, che sta bella slim, slim, all'inizio entrano anche molto dure, perché sono proprio super slim, e non vi fanno, eh, Sena Case, senti, un'altra cosa, un altro marchio molto bello, che sto provando però, con un dispositivo un po' più grande, cioè un iPad, è la pochette, o comunque la second skin, che si utilizza, proprio come una pochette di iPhone, per intenderci, si mette l'ispositivo dall'alto, di Mugio, di cui ho già parlato, pelle conciata naturale, di vari colori, veramente, è un prodotto che costa, l'ira di Dio, perché costa, però, è di qualità, diciamo che, a noi, lo stile, lo stile, magari non lo avrei comprato, perché costa davvero tanto, per quello che, che faccio con i dispositivi, quindi, lo ammetto, e vedi, in questo caso, ho avuto qualcosa, che magari non avrei comprato, però, è una cosa, che, se siete persone, che utilizzano dispositivi, in ambito lavorativo, avete bisogno di mantenere, un certo, stile, giustamente, sia per contraddistinguervi, che per essere, sempre belli, ordinati, puliti, e, evitare di comprare, cose così, random ogni tanto, spendendo anche, magari di più, comprando una cover Mugio, in generale, di qualsiasi tipo, iPhone 6, 6s, 5, 5s, e non è una pubblicità, ve lo giuro, io non, non ho interesse, nel fare pubblicità, a questi brand, non perché, poi, ci mandano i prodotti, ma, semplicemente perché, noi sì, dobbiamo parlarne, lo facciamo per voi, anche perché, non vogliamo farvi spendere, tanti soldi, se poi i prodotti non valgono, in questo caso, sono prodotti che costano, però valgono, cioè, un 40 euro di custodia di pelle, per l'iPhone, di Mugio, secondo me, è molto meglio spesa, di 40 euro di custodia di pelle, che poi costa di più, per l'iPhone 6, 6s, ad Apple, cioè, è proprio un altro livello, di custodia, non c'è paragone, voi mi dite, eh vabbè, ma quella Apple è più, è più cosa, no, 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 non c'è paragone, niente, niente, e un saluto ad Andrea Cervone, che abbiamo tirato in causa, e, che non vede l'ora, Claudio, ah, piccola parentesi sull'app, note, memo, musica, eccetera, eccetera, lì mi sono un po' incavolato, Claudio, che è successo, dimmi, ma ti pare che non supporta il 3D Touch, l'app di Apple, un'app di Apple, e, vabbè, dai, l'hanno appena sviluppata, magari ce l'avevano in cantiere da tempo, e non hanno implementato al meglio, o forse non serve, forse ha, però non so, anche una, far partire la registrazione, non lo so, non so, mi è un po' dispiaciuto, non siamo musicisti, cioè, se lo fossimo seriamente, magari potremmo capire meglio, potremmo anche dirne, però, forse non penseremo al 3D Touch, non lo so, chiediamo a Francesco per questo, però, detto questo, Francesco, Francesco, esci il video, Francesco, esci il video, questa è stata una settimana assurda, però, esce il video ragazzi, tette a tutto spiano, allora, andate all'università, andate all'università, esatto, se non sapete di cosa stiamo parlando, mollate un po' il fatto dei telefonini, e cominciate a, ad andare sulle pagine Facebook, che meritano, allora, eh, questa è contro pubblicità, eh, appa, chiudo il capitolo 3D Touch, con Facebook, che pare che abbia cominciato, il rollout, del pick e pop, all'interno della sua app per iOS, prima Facebook, di certe app di Apple, lo trovo assurdo, ma, no, vabbè, dai, no, vabbè, senti, è una funzioncina che, ci sta, per quanto riguarda le sviluppature di terze parti, e, e il fatto che sia stata poco, poco, no, non sviluppato, proprio poco pensato, negli sviluppatori in questo periodo, però adesso che arriva su Facebook, eh, c'è, è un'app utilizzata da un miliardo di persone, cioè, no, perché secondo te sarà pubblicitata bene, secondo me no, 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 entra, quando comincia ad entrare nell'utilizzo collettivo, adesso ce ne hanno solo i 6S, domani ce l'avranno i 6S e i 7, e l'app di Facebook, cioè, non dico tutti, no, perché se no, a me non è vero, io non ce l'ho, però, comunque, è una bella pubblicità, anche per le live photos, ma sono arrivate poi, o sta continuando ancora il rollout su Facebook? Senti, hanno introdotto le GIF animate in maniera massiccia ultimamente, quindi, nel senso come è invogliare le persone ad utilizzarle, Claudio, ti faccio una domanda, ma è un caso, è Apple che si è accodata, è un trend, cioè, tu sei un po' smanettone, vabbè, non hai i miei stessi anni, però, quindi non so se, ma è la domanda, vediamo, le GIF animate erano una cosa molto anni 90, è da forum, soprattutto, dai, è bravissimo, poi sono sparite, adesso le sto, vabbè, su Facebook ovunque, e le live photos alla fine sono una specie di GIF animata, dai, alla fine è quello lì, sì, vabbè, con l'aggiunta dell'audio in alcuni casi, però, bravo, sì, bravo, però, cioè, alla fine come concetto, no? Secondo te ha aiutato live photos o Apple che ha capito il trend, ci si è ficcata? Secondo me Apple fa tendenza, quindi è chiaro che con le live photos te le riporta le GIF, però già da prima le GIF, cioè, in realtà già da un annetto a questa parte, hanno ripreso un po' a vivere queste, queste forme di animazione, in generale, ovunque, se neanche accorta, forse un 50 e 50 a questo punto, no, è una bella cosa, cioè, sono divertenti, dai, era veramente, era diventato una vetustità tecnologica, intanto che molti sistemi operativi, io ricordo iOS, non le supportava nemmeno, sono arrivate, voglio dire, era una cosa proprio, e sono state soppiantate nel tempo con i video, successivamente, quando si è capito che i video sono quelli, secondo me, abbiamo detto, vabbè, ma le GIF, mica male le GIF, anche se ci sono GIF da 4 mega, quindi, calmi, calmi, a dire che sono poco pesanti, può anche essere che il nostro web oggi, che prima, si è dovuto adattare ai video, adesso, ha detto, vabbè, rifacciamo le GIF, però in qualità superiore, può anche essere, prima facevano schifo, erano schifezzini, adesso veramente, ci puoi mettere dei fotogrammi di video, lì dentro, ma fatti bene, non a cavolo, e ti gusti comunque, un contenuto, seppur di pochi secondi, ma bello, non schifezzerie. Chiudo la faccenda futuribile, parlando di Apple, parentesi, Apple ha aggiornato, è un'altra cosa di cui mi fa infinitamente piacere, ha infornato, ha infornato la pizza, ha sfornato, un aggiornamento di, Logic, io non ho mai visto, un changelog Apple così grande, cioè, ragazzi, tra la 4.2 e la 4.2.1, adesso ho detto dei numeri a caso, però era un 2.2, un 2.1, e, una marea di novità, aveva integrato Alchemy, che era stata una vecchia acquisizione, un plugin famoso, dove voglio andare a parare, e non le hanno abbandonate, Final Cut, nemmeno, anche se probabilmente arriverà, hanno fatto un'app remote, adesso anche su iPhone, per Logic, bello, uno bello sviluppo, hanno integrato un sacco di nuove funzioni, sempre per i musicisti, però, insomma, ragazzi, prima Apple era musica, fotografia, e video, e un po', sembrava che quel settore professionale, piano piano, fosse stato un po' snobbato, per il mondo consumer, invece, tante acquisizioni, stanno venendo a frutto, una di quelle è stata, proprio Alchemy, era un plugin molto famoso, adesso è stato integrato, nativamente, in Logic, che è un sequencer, non è un sequencer, però vabbè, fatemelo passare, il più utilizzato, per chi fa musica su Mac, molto, dai, mi fa piacere, che anche queste, sono state le chicche storiche di Apple, Apple ci crede ancora, le spinge, sono cose di nicchia, certo, ma, è per i professionisti, c'è gente che ci lavora, è buono, invece, parlando di acquisizioni, non voglio parlare della macchina, perché non possiamo parlare della, cioè, si sa, è il segreto di Pandora, cioè, non è un segreto di Pandora, che non esista, è un segreto di Pandora, però è, anche perché, Pandora da noi non c'è, facciamo una battuta, in riferimento al servizio musicale americano, ma, no, sei un grande Claudio, grazie, sei un grande, e, certe chicche ce le ho solo io, no, vabbè, dai, io stavo pensando ai braccialetti Pandora, infatti, e vai, ma dove vorrà andare a parare, no, fantastico, a Pandora, fantastico, e, Apple sta, quindi sta assumendo un sacco di ingegneri, per il settore automotive, però sta, io perché insomma le leggo, ho fatto un po' di reporting, assumendo un sacco, nella realtà virtuale, ha acquisito compagnie, la scorsa settimana, secondo il Financial Times, ha acquisito uno dei massimi esperti della realtà virtuale, che, pensare che cosa stiano preparando è difficile, io ho tipo degli occhialini tipo Oculus, Rift, fatti da Apple, non me li immagino, nella maniera più assoluta, un accessorione da mettere in testa, magari Apple vuole reinventare il mondo dei videogiochi, scusami se ti ho interrotto, non lo so, però, non lo, ho un'idea, Claudio, ragazzi, un'idea mia, sicuramente non ci prendo, secondo me vogliono andare con qualcosa più stile Microsoft, sai che la Microsoft invece è andata più sugli hologrami, sì, sì, io mi vedrei una cosa, però il problema di Microsoft è perché poi per vederli, ti devi mettere di nuovo quel caschetto di banale, Claudio, adesso mi rivolgo a tutti, ragazzi, allora, sti giochi in realtà virtuale con il caschetto, se devi giocare, ok, è un accessorio come tanti, te lo metti e giochi, però io sto mondo in cui il designer si mette sti caschetti di banale in testa, non me lo vedo assolutamente e non ci credo, sarebbe una rivoluzione poter vedere una cosa olografica con i nostri occhi, qualcosina esiste già, io quello mi aspetterei da Apple, un ologramma così che io lo vedo bello, ad occhio nudo, e da integrare non solo, penso al salotto, penso all'Apple TV, penso ai giochi, penso alla domotica, ma l'ologramma, che cosa, cioè, secondo me ti crea lo stesso problema che, con il che hai, con un proiettore, con il quale devi per forza avere un fondo, non lo so, eh, non lo so, beh, sai, sono, però, realtà virtuale, qualcosina staranno facendo, senti Giovanni, secondo me non ha preso il 3D, la realtà virtuale, non è, cioè, non è la stessa cosa, ci mancherebbe, però, ma la vedo la stessa, la vedo una cosa molto lontana, sai, secondo me, cosa potrebbe cambiare davvero tutto, invece, non tanto parlando di realtà virtuale, cioè, sì, realtà virtuale, però, il fatto di poter essere immersi, per esempio, in uno stadio, da un punto di vista di, uno spettatore, per dire, che è seduto, in tribuna, seduto però a casa, con un caschetto, o comunque con, un oculus rift, quelle robe lì, che si gira, e vede tutto, insomma, come se fosse lo stadio, quello mi piacerebbe da morire, proprio, però, beh, ma è una cosa del genere, però, pensa se, con un programma di tracciamento degli occhi, ma anche, banalizzo, su uno schermo normale, oggi, e, anche nello spostarsi, o potessi vedere, oltre il campo visivo, sicuramente, però, stanno facendo delle acquisizioni, grosse, che facciano un prodotto, simile a quelli, che sono già stati presentati, non è proprio in stile Apple, e, come dire, tipo un oculus rift, dell'Apple, a parte, non avrebbe utilità, che lo usi, davanti alla Apple TV, si può essere, però, stanno facendo, c'è ricerca e sviluppo, ragazzi, vedremo un po', vediamo, però, mi entusiasma, perché so che, se Apple fa qualcosa, non farà, qualche cosa, che già gli altri, stanno facendo, qualcosina in mente, ce l'hanno, questa cosa è molto bella, adesso, torniamo al tema, della giornata, proprio, Claudio, mi ha telefonato, dicendo, dobbiamo parlare, per forza, di questa cosa qua, io ho detto, va bene, Claudio, sarà qualcosa, perché non è vero, dimmi, l'iPhone 6G, è uscito, è uscito, su internet, ne parlo io, va bene, vai, vai, hai ragione, tu eri quello entusiasta, della notizia, tu, che schifo, l'iPhone 6G, vabbè, a parte il fatto che, non so se avete visto i video, il video che in settimana, è stato presentato, in via, totalmente, rumors, da tutti, però, quel video, ritraeva, un iPhone più piccolo, apparentemente, perché non abbiamo visto nessun iPhone vicino, che potesse veramente farci capire la vera differenza di diagonale di schermo, insomma, abbiamo visto un iPhone 6G, che aveva esattamente le sembianze dell'iPhone 6, 6S, 4 pollici, chipset che i rumors danno come a nuove, anche se sinceramente, dal mio punto di vista, sembra una grande cavolata, perché basterebbe una 8 con 2 giga di RAM, per renderlo un po' più longevo dell'iPhone 6, che credo che, giustamente, sia il dispositivo che va a rimpiazzare, così come l'iPhone 5S, che, se dovesse essere messo sul mercato, veramente, questo iPhone 6G, è chiaro che, con 4 pollici diagonale, vai proprio lì, quindi, vai vai iPhone 5S, secondo me, credo che anche Giovanni sia d'accordo, ma a che prezzo? Questa è una bella domanda. Altre notizie, Giovanni, di questo iPhone 6C, le lascio a te, però, al momento, visti i prezzi di iPhone 6S, da 16 GB, magari chi cerca un iPhone 6C, si potrebbe accontentare di iPhone 6S, con 16 GB, e quindi spendere molto poco. Claudio, eh, non voglio portare le lunghe, perché non sappiamo nemmeno se, anche se, di solito, qua comincio con le serie storiche della statistica, quando abbiamo cominciato a vedere Scocchia, i rumors sono diventati sempre più veritieri, che qualcosa di mini stiano facendo, e si ne parla da talmente tanto, che pensare che sia tutto falso, non credo, mi piace, forse mi piaceva di più quell'idea di quel 5S seconda edizione, eh, ma no si, per riprendere anche quel design, eccetera, eccetera, invece quello che abbiamo visto, in tutti gli effetti, è un iPhone 6 piccolo, quindi io non credo più al C, E, S, bla bla bla, ma un iPhone così, da, da Apple, lo chiamerebbe mini, come fa con gli iPad, perché è identico, che lo fai, C perché, eh, quindi questo iPhone 6, secondo me mini, anche io, Cip A9 ragazzi, ne parlavo prima con Claudio, anzi, mh, io mi sbilancio addirittura, nel dirvi che non sarà una 9, poi quando esce sarà una 9, dico, vabbè, avete ragione voi, però secondo me non sarà mai una 9, eh, per motivi di prezzo, di discriminante, perché vai a fare una concorrenza al 6S, cioè io voglio risparmiare, vabbè, pazienza, vi voglio il 4 pollici, tanto è uguale, tra l'altro non lo fai uscire adesso, cioè, boh, e tra l'altro esatto, sarebbe stato verosimilissimo, però farli uscire tutti quanti insieme, eppure lì Claudio vai a fare un terminale un po' più economico, che è, sì, ma poi fai fuori tutti gli altri phone che hai a listino, cioè nel senso che, fai fuori il 6, fai fuori il 5S, e basta, cioè, le vendi tre, ma tre buoni, cioè, su quelli basta, allora secondo me avrà un Cip A8, anche perché ragazzi, pensate pure che, eh, la 9, eh, in quanto a consumi, eh, tu dovresti andare a mettere una batteria, più piccola, non 4 pollici, perché il telefono è più piccolo, e anche abbastanza più piccolo, del 6, 6, 5S, insomma, eh, ci staremmo dentro con la batteria, eh, già sulle dimensioni, il 5S, con quello stock lì, 5S non era un grande mostro di batteria, eh, vabbè, però non faceva addirittura, no, no, vedi che, il 5S faceva quasi come l'iPhone 5C, dai, no, 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 non era un mostro, è una batteria un po' più grande della media dell'iPhone 4 pollici, non era un mostro, però ci siamo aggiustati, fatemi passare questo italiano orribile, eh, con, eh, con gli iPhone 6, andare lì con un dispositivo così piccolino, con un A9, ci stiamo dentro, sì, c'è un po' di risparmio sul display, quello che aveva il 5, il 5S in fondo, cioè, nel senso, diciamo che se fate tanto stand-by, non, eh, non lo so, non lo so, non lo so, e poi, non lo so, mi sembrerebbe troppa concorrenza, certo, col chip A9 sarebbe un signor telefono, più compatto, e a quel punto azzardiamo, e ti dico sta cosa in anteprimissimo, qualora avesse l'A9, ora ci cacciano, questo, cioè, l'iPhone 6S, probabilmente, se l'iPhone 6C, o presunto tale, dovesse avere il chip A9, probabilmente, sarà un iPhone, come il 5, venduto solo un anno, perché a quel punto, non ha senso, che mantieni, due tagli di schermo, l'anno prossimo, con, cioè, quest'anno con l'iPhone 7, quando sarà, alla fine abbastanza buoni, un altro dispositivo, sempre con lo stesso chipset, e poi altri due dispositivi nuovi, cioè, crea una confusione, anche negli utenti, un po', cioè, un po' difficile da... Claudio, però, se fa come il 5C, porta un'altra, porta, porta un'altra, cioè, perché il 5C, poi pensi nel 5, sì, ma a questo punto, questo 6, addirittura, questo 6C adesso, pensi nel 6 sicuro, quindi, a meno che, e forse dopo pensiona anche il 6S più velocemente, perché se no, altrimenti, deve pensionare il 6, per forza, come hai detto tu, e quindi, non lo so, è strano, io sono molto curioso, secondo me ne pensiona due, cioè, 6 e 5, cioè, il 5S è sicuro, il 6 forse, il 5S è sicuro, e potrebbe pensionare il 6, secondo me, Apple inizierà quest'anno a fare un po' di riduzione di, di proposte lato iPhone, a questo punto, anche secondo me, però è paradossale, perché tu così ne aggiungi una, quindi se ne aggiungi una, è possibile che molti andranno a scompare, il 5S è sicuro, lo dicevamo già, e se in questa fase ha senso che scompai, a sto punto, e, sì, se ne proprio ne vogliono fare un altro, anche se è vendutissimo ancora il 6, considerando che l'anno prossimo, il 6 scalerebbe di prezzo, entrerebbe nella fascia dei 500, che è, insomma, il 6 a 500, è vero che altri se ne trovano o meno, io ti ho detto ora, per i microfoni spenti, diciamo, io dico sempre a Giovanni, è vero, guardiamo i prezzi di Apple, però, guardiamo gli street price, non credo che l'iPhone 6 si trova a 500 euro d'ingresso, cioè il 6S lo danno, facendo le dovute, io parlo sempre di listino Apple, io parlo sempre di, ci sono alcuni operatori che è vero che ti obbligano ad avere una promozione base, ma in tutto, l'iPhone in 30 mesi, il 6S da 6 ci te lo fanno magari 4,49, non ci venite a chiedere di chi parliamo, perché poi chiaramente a quelli dovete aggiungere per 30 mesi anche il costo della promozione, che non potete eliminare, quindi è chiaro che all'operatore va di più, però in generale è una promozione che voi la pagate comunque, quindi non è che stiamo aggiungendo soldi particolarmente ingenti, è chiaro che se cambiano le esigenze in 30 mesi capita, però è interessante capire dove lo vogliono posizionare, quanta richiesta c'è di questo 4 pollici, se sono così sicuri, è interessante, che lo guardiamo semplicemente. Se per me può spingere più il 6S così, cioè devi guardarla da due punti di vista, da due punti di vista, è vero che l'iPhone 6 ha stravenduto, e venderà qualora dovesse rimanere a listino, però il 6S a sto punto non ha avuto senso per Apple, quindi perché non spingere le vendite del 6S, io farei così insomma. Eh, forse anch'io. Se dovessi scegliere. È chiaro che il 6S non può essere fatto fuori, ci mancherebbe però. Eh no, povero 6S. No, no, anche perché figuriamoci. Abbassi un po' il prezzo per esempio in Italia, dove i prezzi sono esorbitanti, vediamo, poi tra l'altro bisogna, io sto facendo un discorso molto basato sulle serie storiche del passato, in cui gli iPhone andavano via con il pane, anche adesso, ma lo vediamo in ultimi dati. Però sappiamo già che in alcuni mercati si sta saturando, quindi un po' più di concorrenza, forse, forse, forse Apple la deve spingere. Quindi qualche terminale, cioè io la soglia di 500 dollari, io parlo sempre di listino, forse la devi sfondare in basso, perché la concorrenza sta diventando tanta, 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 tanta. e proporre, non lo so, un terminale che sembrava la cosa più senza senso del mondo, il 5C, che poi, tipo in America, è il secondo telefono più venduto, quindi oggi come oggi riesce a fare lo stesso risultato, io non credo proprio, non così evidente, quanto meno, perché la concorrenza è mostruosa, ragazzi, 400 euro, prendi l'S6 oggi. E che poi ha molto senso, secondo me, è vero che è più grande, però... Sì, 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 no, per dire, è vero che se voglio iOS, prendo iOS, bla bla bla, non possiamo fare i stessi discorsi all'infinito, però poi, un discorso con la concorrenza, prima o poi, lo devi anche affrontare, cioè, proprio, perché poi, io posso, io preferisco iOS, però se comincio, vedo un S6, ottimo telefono, perché è un ottimo telefono, non mi piace, preferisco iPhone, io, no, beh, ovvio, dici S6 di iPhone Italia, ma lo preferisco per tanti piccoli motivi, però poi, comincio a vedermi la metà del prezzo, e probabilmente pure io dirò, e vabbè, iCloud mio, avrò meno comodità, però poi, cioè, metà del prezzo, cioè, cominciano a diventare, poi, differenze talmente enormi, e che poi, se io che comincio, se io che sono comunque un appassionato, comincio a farmi sto problema, l'utente è normale, figuriamoci, e quindi poi, prima o poi Apple dovrà affrontare anche questo, e credo che comincerà, bisogna vedere se aspetteranno di calare le vendite, e poi porre rimedio, quindi di diventare più aggressivi, o cercheranno di, quando ci sono i piccoli segnalini, come dovrebbe fare un'azienda, di muoversi sempre con un attimo di anticipo, come poi sempre, eh sì, perché anche perché c'erano gli investitori, che non vogliono aspettare, che uccidano cose brutte, e fare le cose dopo che succedono, ragazzi, ma questo l'ha insegnato Apple, per tante cose, sei sempre quello che insegue, ma anche come strategia aziendale, non premia mai, devi sempre anticipare il momento, anticiparlo, del, quanto meno è possibile, per massimizzare i profitti, ma sempre anticiparli, perché sennò arrivi sempre dopo, io, beh, abbiamo chiuso con questa chicca, io, no, aspetta, io volevo dire l'ultima cosa, volevo chiudere con un'altra chicca, non bugine, non è una chicca, parlando di una cosa prettamente nostrana, ovvero, una cosa che a Giovanni non piace, però a me piace invece, che riguarda il mercato dell'IPTV, per quanto riguarda Netflix, Sky Online, Infinity, e anche Premium Online, visto che c'è però, è molto discutibile anche la forma di abbonamento, perché, Premium Online in realtà si tratta proprio di un servizio, a pagamento in abbonamento, con vincolo, quindi non è un servizio, diciamo, paragonabile a quelli più consumabili via internet, perché magari viene scelto e preferito, nel momento in cui un abbonato, cioè una persona non può abbonarsi direttamente alla piattaforma digitale terrestre, quindi deve per forza preferire internet, magari capita in qualche zona in cui digitale terrestre non prende proprio, quindi si è costretti ad andare via internet, comunque, a parte questo, in questo mercato sta crescendo a vista d'occhio, perché parliamo di numeri che sono quasi triplicati in poco tempo, infatti se a settembre c'erano più o meno 300.000 abbonati tra i vari servizi disponibili, al momento siamo arrivati addirittura a quota 700.000 quasi. È chiaro che non stiamo parlando di cifrone, perché per esempio Sky ha quasi 5.000 di abbonati, per esempio Mediaset Premium, sì ce ne ha due, niente di che, però più o meno due, insomma comunque parliamo di numeri molto diversi, in Italia siamo in pochi, non tanta gente disposta a pagare per fruire di questi servizi, questi servizi stanno un po' emergendo anche grazie alla spinta che ha dato Netflix al mercato, che al momento pare conti circa 110.000 persone che pagano l'abbonamento e complessivamente quasi 200.000 persone che al momento stanno guardando Netflix e sono nel primo mese in tutto, quindi anche lì grandi numeri, però insomma è un altro modo per guardare la TV, Apple TV non è ancora compatibile con i maggiori servizi disponibili in Italia, tra cui Sky Online, Premium Online, Infinity, perché le app non ci sono ancora, speriamo che arrivino presto ma è un'altra forma di televisione che in Italia anche si sta espandendo, grazie anche a un po' l'arrivo della fibra nei grandi centri. Ora, magari molti di voi stanno utilizzando Netflix con soddisfazione, molti altri stanno aspettando di pagarlo solo nel momento in cui arriveranno serie TV degne di nota, però sono servizi che secondo me iniziano a fare la differenza e che quindi possono essere preferiti addirittura agli abbonamenti che abbiamo conosciuto fino ad oggi, quali Sky tradizionale e Premium tradizionale. costano meno e offrono tante ore di intrattenimento a un prezzo veramente contenuto, quindi non voleva essere uno spot, però a noi piace il progresso e questo è il progresso. Ah, bello. Io, dato che siamo un podcast e non ce ne frega niente di nessuno, io vi suggerisco la serie TV Narcos che è su Netflix. E parteggiate per il cattivo, cioè almeno io. E' una figata la storia di... Claudio? Pablo Escobar. Se non sapete che è Pablo Escobar e non sapete nemmeno delle cose delle tette universitarie, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Cioè no, c'è qualcosa che non va. E poi voglio dare un bonus track. È presente Claudio quando compravi i cd che l'ultimo c'è scritto bonus track? E la bonus track dei nostri... Per chi ci ha ascoltato fino all'ultimo, ragazzi, Renzi ha fatto un regalo a Tim Cook. Cioè? Sapete cosa l'ha regalato? No. Una caffettiera a Bialetti. Wow. Cioè, ma va... Ok, adesso possiamo proprio chiudere. Ciao a tutti. Mancini ha accettato le scuse di Sarri. Ah, è vero o è bugia? No, 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 è vero. Ah, ok, dai. Bravo, Mancio. Bravo, Mancio. Va bene. Beh, allora. Vi lasciamo al campionato di Serie A che tra qualche ora comincerà, visto che ci state ascoltando di domenica, oppure se dopo avete già visto tutto, va bene lo stesso. Infatti. Sempre Forza Lazio. No, beh, tanto. Stava così. No, avevo detto tutto, ma non è che dovevo dire. E va bene. Salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.